Ma di che mondo stiamo parlando? Perché c'è un mondo civile che è molto più avanti di quel che si vuole rappresentare con questi congressi dove si mette delle sottolineature che sono imbarazzanti ormai. Se uno apre la televisione e cerca un canale e trova una serie televisiva, Mother Family, non so se vi è capitato, c'è una tale leggerezza di contenuti sulla complessità all'interno della famiglia, dell'amarsi, del volersi bene. Una cosa ho sentito come un errore detta dal giovane che era stato intervistato prima insieme al suo compagno e la ripeto veramente tante volte ormai da molto tempo, da molti mesi. L'amore è una cosa complicatissima e purtroppo è l'odio che sente.